E' un studente? Io? No, no, smesso, smesso. E di che cosa si occupa? Di niente al momento. Ma che ci facevi a bilasciare con quel vecchio? Lo porto a spasso, mi danno 30 euro all'ora. Ma almeno pagherai buffi. Ti arrangi? E come ti arrangi? Spacci. Non riesci più a distinguere cosa va bene da cosa va male, perché l'Alzheimer fa così. Ma che si attacca? Mai sentito. Mai sentito. E' un poeta molto importante. Metto al sacco dei premi. Ho scritto al sacco dei libri. Ma che si sente male? Io? No. Guarda, l'è sempre mancata molto la compagnia maschile. E' solo davanti al portiere e i doni! L'abbiamo per caso! Tutto a posto? Le sono obbligato. Non ho capito. Grazie. Ah, prego, prego. Lei non ha mai scritto poesie? No, io non... Si scriva quando non si sa dove mettere l'amore. Se ti portano al gabbi io te ce lascio. Peggio di qua un po' essi. Io ci ho pensato. Voglio tornare lassù. Ma lassù dove? Ma dobbiamo fare in fretta. Non c'è più tempo. Ma non capisco perché non me ne hai parlato. Tutto quello che vuoi e fu quello il saluto. Tutto quello che voglio alla fine l'ho avuto. Giorgio scusa, è vero che Alessandro ti sta simpatico? Chi è Alessandro? No, ma... No, ma... No, ma... No, ma... No, ma... No, ma...